Cresce l'utilizzo della rete da parte dei minori e allo stesso tempo aumentano le insidie a cui i ragazzi possono andare incontro navigando su internet. Per questo la provincia di Roma ha lanciato il progetto In strada come in rete, ovvero insegnare ai giovani un corretto utilizzo del web, oltre al giusto comportamento da tenere quando si è la guida. L'internet è un mezzo meraviglioso, le due rode sono un mezzo meraviglioso, ma debbano essere usati con correttezza, consapevolezza e con capacità e cognizioni di causa rispetto a questo utilizzo. Solo nei primi nove mesi di quest'anno la polizia postale ha monitorato circa 316.000 siti internet, chiudendone ben 177 per contenuti pedopornografici. Per questo in strada come in rete si avvarrà di 20 agenti della polizia provinciale, 10 agenti della polizia postale, oltre ad alcuni operatori Unicef che formeranno i ragazzi e le loro famiglie per un uso sicuro e consapevole di internet. Grazie Grazie